Anas, società del Polo Infrastrutture del gruppo FS italiane, sta aumentando la sicurezza delle proprie strade attraverso la pubblicazione di un bando di gara sulla gazzetta ufficiale odierna. Il bando del valore di 80 milioni di euro riguarda servizi di ingegneria, prove di laboratorio e indagini dei ponti gestiti da Anas e si aggiunge ai 44 milioni di euro banditi a febbraio per le gallerie. L'obiettivo è utilizzare le tecnologie più avanzate per svolgere attività di ispezione e controllo delle infrastrutture, basandosi sulle indicazioni fornite dalle linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio dei ponti esistenti, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'adozione di tecnologie moderne nelle attività di ispezione consentirà di disporre di strumenti sempre più efficaci per il monitoraggio e la programmazione degli interventi di manutenzione. La gara dal palto sarà divisa in 16 lotti corrispondenti alle strutture territoriali di Anas. La ripartizione sarà la seguente. Al fine di garantire un avvio tempestivo delle attività, tutti i lotti verranno attuati tramite accordo quadro. Le offerte digitali corredate di tutta la documentazione richiesta per ciascuna gara pubblicata oggi dovranno essere inviate entro le 12 del 17 luglio 2023, pena l'esclusione, sul portale acquisti di Anas, acquisti.stradeanas.it. Per ulteriori informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e termini di presentazione delle offerte è possibile consultare il sito web stradeanas.it nella sezione bandi e servizi o l'area bandi avvisi del portale acquisti di Anas, acquisti.stradeanas.it.